bene ragazzi eccoci nella seconda parte di quello che avrebbe dovuto essere un unico video allora finiamo di illustrare il book delle copertine dei piccoli brividi come potete vedere ci eravamo fermati qui altre copertine della serie che adesso andiamo a vedere nello specifico tutte riferite sempre a piccoli brividi pubblicati anche in Italia qui possiamo vedere invece qualche copertina degli speciali in particolare una e due fanno parte delle riedizioni che raggruppano più storie rispettivamente uscirono delle edizioni con gadget che poi magari mostrerò questa non la ricordo sinceramente potrebbe essere uno speciale oppure un inedito questo invece era un calendario era l'immagine di un calendario che usciva in allegato con alcuni numeri in edizione limitata dei piccoli brividi e anche questa immagine non erano forse le cartoline sempre in allegato a uno dei nove speciali usciti allora andiamo a vedere come continua il tutto dunque ectoplasmi questa è ectoplasmi anche qua prima di giungere al bozzetto finale vi erano state delle altre idee su per giù alla fine buone potevano fare lo stesso effetto però in un certo senso qua c'è stata la teatralità della saetta no ci stava anche qua la saetta sul sul tetrogielo notturno ci stava anche nelle altre due allora poteva essere carino vedere anche queste altre due illustrazioni a colori poi aspettate che ho saltato una pagina minaccia nel fango dovrebbe essere questo qua non mi ha mai entusiasmato molto questa copertina e vedo invece vedo invece delle proposte interessanti delle altre idee che forse sarebbero queste sono identiche queste due cosa cambia fra la prima e la terza dobbiamo giocare a trovare le differenze mi sembrano assolutamente identiche vabbè comunque prima di giungere a ecco qua si era pensato un guardarobba un armadio poi dando invece il colore è diventata praticamente una stanza la leggenda perduta anche questa forse una delle mie delle mie storie preferite no non mi fanno impazzire le altre idee dei bozzetti invece molto carina l'ultima lo scrigno molto molto bello la firma di giacopus poi l'ultimo halloween no pardon le zucche della vendetta molto bella la prima idea molto bella anche la seconda molto bella anche la terza però è una delle mie illustrazioni preferite andiamo avanti alito di vampiro anche questo molto molto bello anche questo strepitoso allora la prima idea sembra quasi il dracola di bram stalker che esce dal sepolcro ovviamente anche qua ha posato ha posato qualcuno dalla quale poi è nato il bozzetto anche questa è stata una delle mie storie preferite novembre del 96 metamorfosi totale bellissima la copertina bellissima la storia e bellissimo anche il relativo episodio per chi l'avesse visto perché li davano sulla 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 mediaset su italia 1 se non erro la domenica mattina e sabato mattina si dai carine carine anche gli altri due schizzi potevano essere altrettanto validi però molto 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 bello poi il mistero della caverna di ghiaccio potrebbe essere si potrebbe essere lui il popazzo di neve però era più tetra questa acqua la prima idea era più tetra anche no la seconda la terza si la terza è più bella ancora sembra un popazzo di neve invecchiato imbruttito ma ce n'era addirittura una quarta vabbè il risultato finale comunque non delude poi il ragazzo volante anche qui la ha vinto la prima idea si con qualche piccolo cambiamento qua sembrava no troppa troppo peter pan avrebbe fatto troppo peter pan o c'è qualcosa che vada fra i bozzetti del pupazzo c'è qualcosa di disturbante comunque andiamo avanti prigionieri di un incandesimo quasi sinceramente poteva fare di meglio non voglio dire molto fedele poi anche alla trama però anche qua il volto è di una di una protagonista in carne ed ossa sinceramente non non mi è mai piaciuta molto però questa copertina ok incubo al risveglio anche questa una delle mie storie preferite e anche questa bellissime bellissime tutte e tre bellissime tutte e tre niente niente da togliere potevano essere altrettanto valide l'avventura del mostruoso blob anche qua è curioso vedere il blob in altre in altri schizzi anche questa è molto molto bella con il con uno dei tipici finali alla stein il mistero del lago gelato allora non tanto il fantasma poteva essere forse forse dava sicuramente un'area più tetra una mano che si affacciava però però in qualche modo forse questa ingute ingute più timore non avendo avendo tolto la l'idea del della mano ad artiglio che spuntava dal lago un amico invisibile anche questa storia bellissima bellissima bellissimo il relativo episodio altri schizzi altrettanto carini terrore dagli abissi numero due sinceramente non l'ho mai capita questa copertina però ma guarda questa questa sarebbe stata stupenda questa sarebbe stata fantastica che peccato che non ha prevalso nell'idea finale ma sì e no questa questa secondo me questa avrebbe vinto molto molto più bella molto molto più bella la scuola maledetta anche questa storia non era male ma bozzetto 1 bozzetto 2 e alla fine l'ultimo la casa dei lupi mannari anche questa era molto bella prima idea costume da halloween la solita pelliccia del lupo qua era appoggiata su una sedia qua era appoggiata sulla spallina della sedia no no questa qua dai è molto bella c'è qualcuno nel buio ho letteralmente amato questa storia forse una delle mie preferite ma nei bozzetti 1 e 2 sembra quasi un cumulo di vestiti vabbè sarà forse perché manca il colore no 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 questo è bello è molto bello una delle illustrazioni guardatela è proprio fantastica questa illustrazione un barattolo mostruoso numero 4 troppo pacifisti uscivano dal vattro ma diciamo anche di sì l'aver aggiunto il cipiglio minaccioso è stato il tocco di classe e a tal proposito mostro l'altra chicca se arrivo a prenderla eccolo qua un altro un'altra creazione di di un fanboy ma guardate lo guardate lo sembra veramente uscito proprio uscito dal dal libro di stein con la relativa copertina alla fine molto 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 bella molto avvincente anche questa storia vieni qua vieni qua non scivolare non scivolare non scivolare non scivolare ok poi ok arriviamo alla quarta parte in qualche modo sì sì mi sembrano anche queste tutte copertine tranne è questo questo non l'ho mai visto deve essere uno speciale inedito in Italia no no sta copertina non l'ho mai vista in italiano andiamo a vedere l'urlo del gatto interessante il gatto che salta anche questa poteva essere bella sì forse anche di più anche di più ah c'era ancora il pupazzo parlante sì il pupazzo parlante numero 4 non avevamo finito ce ne stavano ancora slappie la sua consorte solo la consorte no alla fine comunque è molto bella è stata molto bella questa illustrazione anzi si vedono addirittura dei dettagli che forse erano coperti sulla facciata del del libro o mostro in cattedra anche questa storia è stata stupenda mamma mia quasi è proprio sbizzarrito guarda quante versioni ne aveva creato una due ma anche no anche no qua sembra quasi una rifacitura di mister mortman e al mostro al mostro no 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 questa si qua sembra una psicopatica ah ecco alcune ci aveva anche già dato il colore no questa no queste due secondo me vingono alla pari vabbè ormai siamo stati abituati a vedere poi questa oh stupendo stupendo una delle trame migliori l'invasione degli stritolatori peccato avrebbero potuto crearne anche una terza e una quarta parte anche il disegno era stato pensato e poi diviso in due perché c'è l'invasione degli stritolatori prima parte e seconda parte quindi come potete vedere è lo stesso con qualche ritocco qua la testa del ragazzo era era riversa invece poi in quella finale ha deciso di di renderla però guardate che belle anche gli stritolatori che arrivano che arrivano sulle sugli asteroidi qua mamma mia che belli sarebbe stato bellissimo vederli a colore ma anche questa guarda che stupenda ma perché poteva farne una terza e una quarta parte ma questo no in questo no no non rende ecco questo sì questo è fantastico anche questo bozzetto come potete vedere c'era la prima e la seconda parte e anche queste voglio dire si notava subito che se si affiancavano i libri l'immagine in qualche modo era un continuum a eccola qua stupenda meravigliosa meravigliosa ci stanno le due firme di jacobus qua e una a meno che non ha fatto il bozzetto in un'unica forse non ci sta qua sì perché era un solo dipinto che poi è stato diviso quindi questa è la firma che va per tutti e due almeno non mi sembra di vederlo qua il gemello malefico interessanti ma ma anche no io sono la vendetta qua sembrava più un corvo quasi appollaiava sul dito di di qualcuno poi questo qual'era il campeggio degli orrori una cosa del genere anche qua aveva fatto più di un bozzetto no no ma anche no ma sembra quasi come si chiama il protagonista dei guardiani della galassia uno dei protagonisti di guardia della galassia il progione no 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 dai alla fine alla fine bella questa immagine che ha prevalso sulle altre sfide mortali bella però sì l'idea di mettere le tarandole sulla mano o la mano nel barattolo si molto molto belle sarebbero state anche questo ragno qua spettacolare si poteva vincere una una di queste altre due immagini questo è l'ultimo halloween fantastica stupenda sia la storia che la copertina altre idee carini anche gli altri bozzetti comunque anche qua ha posato qualcuno ok 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 morto ma non sepolto stupenda anche la storia altre idee si molto belli però no molto bello però no sarà che forse sono di parte sono abituato a vedere questa copertina qua anche le altre sarebbero state stupende però però questo è bellissima una spremuta speciale quasi sinceramente poteva poteva usare di più anche negli altri bozzetti c'era in qualche modo rappresentato il cervello ritorno a horrorland l'orrore viola altre idee ma sì però però no sembrava sembrava una brutta rifacitura della prima copertina sì però alla fine alla fine superba questa jekyll e hyde no forse la che bella questa era bellissima ma forse anche qui ha posato qualcuno ma alla fine spettacolare il re dell'orrore altri bozzetti altre idee no 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 questo qua decisamente questo la mummia è tornata questo è in assoluto il primo libro che comprai il primo libro che comprai la prima storia che lessi interessanti anche le altre varianti dei bozzetti anche se questa bellissima questa bellissima questa poteva andare altrettanto bene il licandro ma no questo qua decisamente l'anello maledetto allora bella la storia però non mi ha mai è bella anche l'immagine però però in un qualche modo non mi ha mai non mi ha mai convinto questa copertina ma quest'altra idea no ma quest'altra idea forse questa sì questa forse sarebbe stata più carina ma alla fine anche quella finale cambia di poco più che altro non mi piace l'ingarbuglio di gioielli avrei potuto vedere l'anello ecco molto meglio indossato da qualcuno da una mano il campeggio degli orrori terrore al campeggio insomma una cosa del genere mi ricordo la storia che è molto bella e se non erro è anche il continuo no forse no no spettacolare spettacolare questa qua tremate questa oltre che bella la storia la copertina in verità più di tanto ho sempre sognato di giocarci di giocarci a quel fantastico gioco ma anche questo non era male anche questo non era male e in un qualche modo mi sono sempre chiesto se era nata prima questa storia prima giumanci ma vabbè andiamo avanti la macchina maledetta la macchina stregata ora non ricordo qual era però però molto più bella questa la macchina in marcia anche questa era stupenda ma perché ma perché a volte a volte i primi bozzetti sono sono i migliori no dai questa questa quando era bella oppure quest'altra febbre di plenilunio anche questa era bellissima come strama qua sembra sembra più un leone che un lupo qua sembra più una scimmia che un lupo guardate la luna come si staglia minacciosa enorme all'orizzonte quasi innaturale poi l'incubo di slappi e con questo ufficialmente abbiamo finito col pupazzo parlante questa è l'unica trama di relativa slappi che in qualche modo è riuscita a piacermi no ma no ma no ma sì diciamo di sì però poteva fare di più i terrestri senza memoria spettacolare la storia anche qua c'erano degli altri bozzetti oh guarda che carina era la forma della nave qua sembrava uno squalo qua sembrava un insetto ma forse una di queste due erano più bello non dando lo squalo ma questa qua sarebbe stata molto bella però anche questa finale prende e siamo arrivati allora questo era l'ottantasette era l'ultimo libro il fantasma nello specchio bella la storia si alla pari non avrebbe cambiato molto lo specchio sul cassettone questo no questo no ma poteva essere bello questo qua però alla fine e questa qua deve essere inedita non la ricordo in italia no no non ricordo niente del genere se dovessi azzardare un'idea forse è il continuo di un barattolo mostruoso un probabile seguito carine anche le altre idee però sinceramente non non avendo insomma non ho proprio conosciuto la storia posso immaginare fosse un seguito del barattolo mostruoso però questo qua fino adesso è l'unica l'unica copertina e no ecco qua ce ne sono altre un'altra storia questa fosse da tema natalizio o forse era uno speciale comunque non sono mai stati neanche fra gli speciali in italia questa era una maschera maledetta forse ce n'è stato una un terzo un quarto è bellissima comunque o forse era una copertina un'idea poi mai giunta a termine no ma in realtà credo che siano degli speciali che non hanno tradotto accidenti a loro di un altro slappi avrei far facciamo volentieri a meno guarda che bella anche questa edizione speciali edizione speciali esclusiva le copertine sono fantastiche credo che in realtà siamo alla fine si siamo giunti alla fine il ragazzi invisibile vabbè questo qua è relativamente nuovo è relativamente nuovo ragazzi questo c'è un'altra pagina bianca cartonata che conclude questa edizione dell'arte dei piccoli brividi fatemi sapere se l'avete preso se lo prenderete pareri quale sono le vostre copertine preferite io spero ma non penso che che facciano la traduzione ma mai dire mai comunque se dovesse uscire in italiano sicuramente raggiungerà raggiungerà il suo omonimo in lingua madre perché comunque ripeto avrei avrei preferito prenderlo in italiano purtroppo a tutt'oggi non è mai uscito e secondo me mai uscirà bene ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie grazie